Sono Paolo Faragò, titolare di Tenute Faragò, un'azienda situata a Sardegna, sul Sardegna, a 15 km da Cagliari, in un territorio che si chiama Parteolla. Il territorio era storicamente evocato per la coltivazione di uva da vino e di olivi già dai tempi dei Romani. Infatti c'è il paese principale che si chiama Dolia Nova, richiama proprio la Dolia, che era il contenitore in cui veniva stoccato o veniva messo ad affinare, se così si può dire, da quell'epoca il vino e l'olio. Ho intrapreso un percorso nel mondo del vino a partire dal 2017, in cui ho fatto il corso a sommelier, sono diventato sommelier nel 2020 e ho deciso di iniziare a produrre vino nel 2021. Ho acquistato 15 ettari, dei quali 6,5 vitati, solo con uva geototoni, con l'idea di vinificarli solamente in purezza. Dalla 2021, che è la prima annata che è andata in bottiglia, ho fatto 4.000 bottiglie di 4 tipologie, Malvasia, Canonao, Bovale e Malvasia Macerata. Ho deciso appunto di lavorare, come dicevo prima, uva geototoni vinificati in purezza. La Malvasia è uno dei tre bianchi che vinifichiamo, è un uva geototoni, quindi la difficoltà di vinificare secca a un uva geototoni è quella di cercare di dargli un po' di eleganza e di non rendere succhevole. Vinifichiamo queste uve vendemmiandole anticipatamente, quindi cercando di preservare e di mantenere un pochino di freschezza per via della non completa maturazione degli zuccheri. raccogliamo queste uve, le vinifichiamo in bianco, quindi nel momento in cui le uve arrivano in cantina vengono refrigerate all'interno della cella a frigo per una notte, vengono lavorate lindomani e nel momento in cui vengono lavorate non c'è macerazione, c'è semplicemente una lavorazione con il mosso fiore, quindi la prima pigiatura, quella più nobile, e la separiamo direttamente dal torchiato perché il torchiato che ha la seconda pigiatura, trattandosi di un orvaggio aromatico, potrebbe andare a dare dei sentori troppo varietali a questo vino e quindi andare a fare quello che dicevo prima, quindi a renderlo molto succhevole. Il colore, come si può vedere già dalla bottiglia, è un colore dorato con qualche riflesso verdolino nel calice, il riflesso verdolino è dato appunto dalla non completa maturazione delle uve, mentre il colore dorato è dato da quello che ha un caratteristico colore della malvasia vinificata secca. Il naso è molto molto floreale, molto molto fruttato. I quattro rossi che produciamo ci sono due cannone audio bovale, uno per entrambi gli uvaggi fanno entrambi o un affinamento solamente in acciaio e quindi si fa un vino base che fa una vinificazione in rosso con passaggio in acciaio e vendita in commercializzazione quasi in annata. Invece poi una selezione delle uve, delle vigne del Canonao e del Bovale vengono poi vinificati per fare le riserve. Del Bovale non esiste una riserva, del Canonao esiste una riserva perché c'è un adocchio territoriale che appunto presuppone la possibilità che si possa vinificare un Canonao riserva. Il Canonao riserva che ho portato questa sera è un Canonao relativamente fresco perché è una vigna giovane di terreni che sono terreni non come quelli del centro Sardegna, che conferiscono principalmente freschezza, esposizioni terreni che conferiscono principalmente freschezza alle uve di Canonao e soprattutto perché se andassimo a ricercare la maturazione completa di queste uve andremo ad ottenere un grado alcolico troppo elevato e andremo ad avere dei vini stanchi ancora prima di essere commercializzati. Invece in questo caso, nonostante appunto si tratta di una riserva e quindi abbia almeno un anno di affinamento in tonno, in questo caso quindi una botte a 600 litri di rovere francese e un anno di bottiglia questo tipo di vinificazione non va comunque a dar vita a un vino stucchevole e pesante perché appunto, come dicevo prima, i terreni e le esposizioni del Canonao del Sud Sardegna che sono totalmente diverse rispetto a quelle del Sud Sardegna riescono a dare freschezza al prodotto finale questo per via principalmente dei terreni molto calcari e quindi che conferiscono alle uve delle caratteristiche molto minerali, molto balsamiche nello specifico il Canonao è un uvaggio che ha un colore trasparente perché si può leggere attraverso e quindi non è un vino totalmente impenetrabile ed è una caratteristica di tutti i Canonao i Canonao vinificati in purezza devono essere così perché il Canonao non ha una grande componente di colore non ha una grande componente di antociani e quindi dà dei vini che hanno una trama di colore relativamente leggera e soprattutto dà vita a vini che sono molto eleganti hanno dei bouquet aromatici molto molto eleganti con tannini relativamente dolci quindi non troppo invadenti a vini che non troppo invadenti Grazie a tutti.